Salve a tutti, sono Marco Quacquarelli, sono nato il 26 gennaio 1997 a Savona, abito a Quigliano e frequento il quarto anno di alberghiero presso l'Istituto Migliorini a Finale Ligure, indirizzo cucina. Ho fatto diversi stage in cucina e in pasticceria, ad esempio l'estate scorsa ho lavorato presso l'hotel Garden Lido di Loano, ho buone conoscenze in inglese e tedesco e ho fatto anche un master presso la città di Edimburgo. Tra due anni, quando finirò la scuola, vorrei andare all'Alma di Parma perché penso che sia una delle più importanti scuole di cucina del mondo. Il mio sogno è quello di diventare un grande chef e di aprire un ristorante sestellato. Sono un candidato a Expo 2015 e di questo sono molto orgoglioso perché penso che sia bello partecipare a una delle più grandi manifestazioni mondiali sull'alimentazione.